Lì dove c'è il verde e ora ci sono le fiamme, il fuoco continua a bruciare i monti del Salernitano, continua a bruciare ettari di macchia mediterranea con le inevitabili ripercussioni che si avranno in futuro sugli equilibri del territorio con il rischio di frane alle prime abbondanti piogge. Anche i cittadini di Baronissi in queste ore fanno i conti con il fumo e la cenere che arrivano dai monti in fiamme ed invadono le abitazioni rendendo irrespirabile l'aria. A Saragnano di Baronissi il fuoco è arrivato vicinissimo alle abitazioni. Vigili del fuoco, volontari della protezione civile e mezzi aerei impegnati per domare gli incendi con focolai che spuntano da più parti e che inevitabilmente inducono a pensare ad una origine dolosa degli incendi. La follia dell'uomo che riduce incendi nel proprio ambiente va combattuta in tutti i modi. Ecco allora che occorrono sempre più telecamere nei territori, nelle zone strategiche per debellare questo triste fenomeno che si ripercuote sulla qualità della vita di tutti noi.